Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Marco Azzurro, Italia-Belgio 2-1 per noi ragazzi con i gol di Barella e il rigore di Bira di Bela, belgio che ha segnato il 2-1 con Selle Makers partita non semplice oggi perché l'Italia doveva riprendersi dopo il pessimo umore che c'era per la sconfitta contro la Spagna un Donnarumma fischiato dal Meazza di Milano in quella stessa partita in cui aveva preso due gol e quindi ragazzi c'erano tutti i presupposti secondo me per un tracollo oggi ma l'Italia ha reagito con lo stadium che ha incitato Donnarumma e tutta la squadra e sinceramente il Belgio oggi poteva anche essere superiore ma l'Italia ha vinto grazie al tifo secondo me ha vinto grazie al cuore, grazie all'impegno allora chiaramente ragazzi questa oggi era una partita che era veramente importante solamente ai fini del ranking però io voglio comunque sottolineare che oggi l'unico giocatore che ancora una volta dopo tutte le partite che si sta facendo che ha impensionito veramente il Belgio fino al 60esimo quando ha segnato Barella era stato Chiesa Chiesa veramente giocatore importantissimo ragazzi ha degli strappi assurdi penso che però comunque molti lo sappino, non c'è bisogno che ve lo venga a dire io ma veramente è un giocatore che l'Italia si deve tenere stretto e parlo di Italia non come nazionale, parlo di Italia come campionato di Italia come Juventus perché veramente è un giocatore che ha delle doti assurde e sinceramente darei tanti soldi per averlo nel Napoli detto sinceramente nel mio Napoli parlando dell'Italia se per sé un po' di stronzate difensive sono state fatte come sul gol di Decatelar però sinceramente ho visto partite peggiori considerato che giocavano bastoni ai cerbi che non sono i titolari di Lorenzo ha sbagliato una marea di controlli su quella fascia non so che problemi tenga poi ha avuto anche un fallo quindi ragazzi ha subito anche un fallo e quindi queste cose qui ma per il resto l'Italia si è ripresa molto bene per quanto mi riguarda questa non è stata una partita di pallone sembrava una partita di rugby molto messa sul fisico da parte dei belgi l'Italia l'ha vinta tale quale quindi tanta tanta roba noi ci vediamo alla prossima sono raffreddatissimo appunto e quindi ciao a tutti